Eh 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 finalmente finalmente Gino? Eh si papà? Mi vuoi spiegare dove hai speso 1500 euro? Papà 1500 euro al mese? 1500 euro al mese? Ma che cavolo quindi ogni mese devo spendere 1500 euro? Ma che cosa hai comprato? Eh ho preso un bodyguard Un bodyguard? E per che cosa? Ho preso un bodyguard per difendermi da te Che mi picchi sempre Per difenderti da me? Io sono tuo padre e ti picchio quanto mi pare Oddio lo devo chiamare Che c'è? Che c'è? Che c'è? Ma che? Io no ma che? Bravo Dio No no no